Sono consapevole di come il piano di dimensionamento si riverberi sulla vita delle famiglie, ma il mio compito è quello di garantire la qualità dell'istruzione sul territorio e un ordinato avvio dell'anno scolastico. A dirlo è la dirigente dell'USR del Molise, Maricetta Chimisso, che dopo polemiche e duri botte in risposta nei giorni scorsi con l'assessore Pretano ha convocato la stampa per pronunciarsi sulle ultime vicende, quella che riguarda la scuola Iovine di Campobasso, che al momento manterrà la dirigenza e dove la soppressione riguarda solo la figura del direttore dei servizi generali amministrativi, che sarà in reggenza. La scuola Iovine avrà in reggenza, quindi con piena facoltà, pleno iure me lo fate dire, un direttore dei servizi generali amministrativi che farà con abnegazione, efficacia ed efficienza il suo lavoro. Questo lo garantisco io di persona. Un passaggio, quello della reggenza del DSGA, che per genitori e personale scolastico che già hanno promosso sit-in di protesta rappresenterebbe solo il primo passo verso la soppressione della dirigenza della scuola del capoluogo, sul quale il ragionamento, ricorda invece la Chimisso, dipenderà dalla situazione complessiva regionale dopo quelle che saranno le disposizioni del governo. Stiamo aspettando un decreto legge che definisca a livello normativo i movimenti dei dirigenti scolastici che al momento sono collocati fuori regione. Quando verranno definiti questi passaggi si dovrà lavorare ai dirigenti scolastici molisani e quindi non è detto, adesso io non sono in grado di dirlo, quali sono le scuole che andranno in reggenza, in verità poche, quali avranno la titolarità. Focus anche sul Dante Alighieri di Ripalimosani, per il quale la situazione è particolarmente complessa e che vede due procedimenti distinti, quello del Consiglio di Stato, al quale hanno fatto ricorso Ministero, Regione e OSR in qualità di ente territoriale, che entrerà nel merito in autunno. Si attende poi al giudizio di ottemperanza del Tar dopo che lo stesso, lo scorso 12 marzo, aveva definito illegittimo il provvedimento di soppressione dell'Istituto Comprensivo che dava seguito alla delibera della Regione. Che dovrebbe, come accade in queste vicende, concludersi con la nomina di un commissario ad acta e a cui seguirà un tavolo interistituzionale per trovare una soluzione legislativamente e giuridicamente compiuta alla questione di Ripalimosani.